Celebrare l'arte cinematografica attraverso nuovi corti in anteprima internazionale. Sarà questo Influential Shorts, la serata di gala curata da Bella Thorne, prevista stasera alle 21.30 al Teatro Antico di Tormina per il Film Fest. Peret Wiseman, nominato dalla Fondazione Tormina Arte Sicilia co-direttore artistico e direttore esecutivo, ha voluto coinvolgere i maggiori talenti influencer mondiali, ognuno dei quali conta milioni di follower, sulle differenti piattaforme social. L'obiettivo è quello di avvicinare i giovanissimi al contesto del festival e far loro conoscere un gioiello storico della cultura italiana, stimolandoli attraverso le loro dirette forme di comunicazione. Ritengo che questa sia un'incredibile opportunità per far dialogare due contesti culturali che appartengono a generazioni diverse, afferma Wiseman. La Thorne presenterà in anteprima mondiale il suo cortometraggio di debutto, Paint Hair Red, una sceneggiatura originale dall'iscritta, diretta e interpretata. Per completare il suo cortometraggio e dare vita a una serata eccezionale, la Thorne inviterà non solo artisti, celebrità e influencer famosi, a presentare i loro progetti come registi, ma anche talenti scoperti di recente. Utilizzare a tal proposito la sua presenza sui social media per far conoscere voci e talenti nuovi è stato fondamentale. Tutti noi ci connettiamo attraverso le storie, afferma la Thorne. Guardare l'arte dovrebbe essere come guardarsi allo specchio. Sono alla ricerca di cortometraggi che mi parlino di dinamiche familiari, di traumi in qualsiasi forma, di storie di odio interiorizzato, di storie madre-figlia e padre-figlio. Cerco storie che mostrino l'equilibrio, i lati belli e brutti della vita, la luce e l'oscurità da cui siamo circondati ogni giorno. Sono dunque molto grata a Barrett Wiesman per avermi dato l'opportunità di aprire la strada a una nuova generazione di registi. Cosa è successo? Cosa è successo?